Grazie 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 Oh, Gesù mio Come fare? Ma quella ragazza che sta a cu- Si, qua ci devi fare per lui Ma poi Eh, io le dà No No, 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 continua Ah, mi sono di- No, no, no Continua Ah, mi sono di- Buongiorno 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 Parla Si Fabio, ci sono qua Posso anche parlare Buongiorno Dimmi Buongiorno Buongiorno Come va? Buongiorno Ah, cosa stai guardando? A te, che ti do a guardare Ah, che cosa? Ah, che cosa? Buongiorno 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 Buongiorno